Consiglio Comunale a Subbiano per le linee guida per l'istituzione del Consiglio dei Bambini e delle Bambine nel giorno del diritto all'infanzia e all'adolescenza. Sindaco, come nasce questa volontà dell'amministrazione comunale? È stata una volontà già da tanto tempo, perché sono circa sei anni che il Sindaco Subbiano è stato iniziato come sindaco per i bambini. Una volontà proprio di dare possibilità voce a bambini, questo è importantissimo per noi, importante penso anche per la scuola, perché dare voce a bambini è arrivato il momento, sappiamo che tanti bambini non vanno a scuola nel mondo, che non sono difesi. È importante concedere la possibilità attraverso questo punto di partenza che è il Consiglio Comunale odierno, per far adottare ai minori stessi delle decisioni che dovranno poi essere ascoltate da parte di noi amministratori su questioni di loro interesse. Come lavorerà la scuola? All'interno della scuola si verrà a creare un vero e proprio consiglio comunale, dunque verrà eletto un sindaco, ci saranno delle elezioni, verranno costituite delle liste probabilmente, cioè si verrà a creare una vera e propria campagna elettorale con dei progetti, con dei programmi, i bambini troveranno delle idee, delle iniziative, dei progetti che loro vorrebbero realizzare o che fossero realizzati per loro conto e sulla base di quelli vorranno essere votati, dunque si verrà a costituire un vero e proprio consiglio con uno statuto, con una sua regolamentazione interna e ci sarà il sindaco, ci saranno gli assessori e questi saranno gli interlocutori privilegiati con il sindaco e gli assessori grandi, quelli piccoli con quelli grandi.